Con una incredibile rimonta nell'ultimo quarto la Globo Info Service Campus Bank e il Palacastrum di Giulianova sogna alle finals di Coppa Italia. 74-76 il finale di un match controllato dal quintetto di casa guidato da Ernesto Francani tuttavia incappato in un incredibile blackout che ha permesso alla squadra farnese di completare una rimonta che a un certo punto sembrava impronosticabile. Basti dire che a metà del terzo quarto Giulianova toccava il massimo vantaggio più 21 62-41. Reduce dalla vittoria nel recupero contro Senigallia nell'ultima gara del 2016 la squadra di Millina inizia decisamente col piede sbagliato ma resiste al primo strattone Giuliesi chiudendo il primo quarto sotto di tre lunghezze 25-22. Nel secondo quarto però il quintetto di casa scappa ispirato dalle triple di Simone De Angelis e all'intervallo è più 14 per la squadra di Francani 51-37. Nel terzo quarto come detto c'è anche il massimo vantaggio e al trentesimo è più 16 68-52. Nell'ultima frazione l'imponderabile Giulianova si distrae e non segna più Bottioni 21 punti alla fine e Petrucci 8 punti danno l'infa alla rimonta suggellata dalla tripla di Gatti che vale il sorpasso sul 70-71 a tre minuti della fine. Il finale è ricco di tensione un'altra tripla di Gatti 20 punti per lui alla fine consegna il 72-76 e sembra chiudere i giochi ma Gallerini prima segna il meno 2 poi ha anche il tiro del pareggio ma è decisiva la stoppata di Serafini. Campli vince, Sansevero va al tappeto in casa con Matera questo vuol dire che domenica al Palaborgognoni in un altro derby contro l'amatori Pescara in serie aperta di 7 vittorie la Globo Info Service si giocherà l'accesso alla Coppa Italia. Con una vittoria l'obiettivo sarà centrato.